Le diocesi di Grosseto, Pitigliano, Sovano, Orbetello hanno presentato la sesta edizione della Settimana della Bellezza con il titolo L'infinita bellezza oltre la siepe. Dopo l'edizione 2020 che a causa della pandemia fu concentrata in una giornata e mezzo, la Settimana della Bellezza torna nel suo format abituale che l'ha fatta apprezzare e seguire in questi anni anche oltre i confini locali. Sono convinto che abbiamo bisogno proprio per vivere in pienezza il tempo presente di riflessioni, di immagini, di opere d'arti belle che ci aiutino a considerare la vita anche come qualcosa di bello e non soltanto di problematico. Un momento di riflessione per la nostra comunità che ci porta ad andare oltre i confini del nostro territorio quindi siamo veramente orgogliosi di contribuire insieme alla diocesi all'organizzazione di questa iniziativa. Un'occasione per dare il nostro contributo alla crescita generale della nostra comunità su argomenti che non sempre sono all'ordine del giorno. La Settimana della Bellezza 2021 si strutturerà in due tempi, il 30 e 31 ottobre con l'accoglienza del dipinto Madonna col bambino tra i Santi Pietro e Sebastiano della bottega di Bellini e proveniente dalla collezione privata Gianfranco Luzzetti. La cosa importante è che questa è una copia, addirittura sembra una copia migliorativa dell'esemplare autografo che è all'ouvre. E il 3 novembre fino a domenica 7 con altri eventi che coinvolgeranno diverse istituzioni della città di Grosseto.